Ciao ragazzi, buongiorno e bentornati su paolodetrane.it. Oggi parliamo di Turchia. Di Turchia? Sì, di Turchia! Il 24 febbraio, infatti, andrò insieme a mia moglie in Turchia, per la precisione, ad Ankara. E cosa andiamo a fare ad Ankara? Andiamo a fare qualcosa che non ho mai fatto prima. Per la prima volta nella mia vita proverò a realizzare un mini documentario. E andiamo in Turchia perché vogliamo raccontare la storia delle comunità cristiane e protestanti che sono in Turchia e che non hanno assolutamente vita facile là. Vogliamo raccontarvi il lavoro che fanno con i rifugiati siriani. Raccoglieremo diverse testimonianze di turchi che si sono convertiti dall'Islam al cristianesimo e ci racconteranno le difficoltà che hanno incontrato e che tuttora incontrano per la scelta che hanno fatto. Infatti, nonostante la Turchia sia travestita, per così dire, da stato filo europeo, e in parte lo è, rimane uno stato islamico, volente o nolente, con tutte le implicazioni del caso. Ed è una parte, un lato della Turchia, che pochi conoscono. E per questo abbiamo pensato che fosse una buona idea raccontarvelo. Quindi vi porteremo con noi in Turchia attraverso il vlog. Mentre sarò in Turchia cercherò connessione permettendo di realizzare il vlog tutti i giorni in modo che possiate giorno per giorno vedere cosa succede attraverso le foto, i social, Facebook e Twitter, Instagram e Snapchat. Ci proverò, ma non sarà facile, proverò a usare Snapchat in maniera un pochino più assidua in quei giorni in Turchia, e alla fine rientreremo il 29 in Italia e inizierà la produzione, la post-produzione del documentario. Quindi, se vi piace l'idea, se volete sapere qualcosa in particolare su questo documentario, su questa idea, su questo progetto, fatemelo sapere qui sotto al video, mettete, lasciate commenti, lasciatemi idee. Bene, seguiranno altri video, seguiranno altri aggiornamenti, soprattutto per i tecnomani sulla parte tecnica. Cosa porto con me? Tutto sarà girato con questa telecamera, la Blackmagic Pocket Cinema Camera e porterò con me ovviamente la mia Fuji X-T1 per fare un po' di foto e porterò con me anche il drone per un po' di riprese aeree. Ok, spero che questo progetto esca fuori decentemente, visto che veramente è la prima volta che mi cimento con una cosa, con un progetto video così elaborato, così strutturato e anche così complicato. Le persone che intervisterò sono molte e le situazioni molto diverse tra loro, per cui sarà una bella sfida riuscire a gestire tutto quanto in modo più semplice possibile. Ok, apprezziamo il vostro sostegno psicologico, quindi scriveteci, lasciateci commenti e fateci sapere che ne pensate. Nel frattempo vi ringrazio e se non lo avete ancora fatto iscrivetevi al nostro canale YouTube. Ciao, ci vediamo in Turchia!